Buonasera, ti chiedo, l'anticidio avrebbe firmato per un 3-3? Siamo comunque contenti, anche se c'è un po' il rammarico di essere andati in vantaggio 3-1 e di essersi fatti riprendere. Siete stati bravi a concretizzare su due errori lavorosi del pescato? E i nostri? Un uomo libero in area su angolo, marcatura dimenticata o persa su un blocco, un rimpallo, diciamo che non siamo stati molto fortunati nemmeno noi. Il terzo gol, così. Però, ripeto, noi siamo venuti per tenere viva la qualificazione e magari poterci giocare in casa nostra il vantaggio della posizione di classifica. Questo è successo e siamo contenti così, anche perché abbiamo disputato un'ottima gara. L'espulsione della panchina, che cosa è successo? Ma su un fallo non fischiato in mezzo al campo il mio vice è andato verso il guardaline e non so, per prendere il rosso io credo che ci debbano essere delle offese pesanti e invece anche a detta del guardaline non c'è stata nessuna offesa, c'è stato solamente un po' un gesticolare, un po' la voce alta. Vabbè. Vista era una partita che si aspettava adesso al novantesimo, insomma, si aspettava questo tipo di partita e questo tipo di pescara. Ma io onestamente speravo di vedere la mia squadra così, perché noi abbiamo fatto, a mio avviso, veramente molto bene. Il pescara sappiamo, guardandolo un po', abbiamo visto quelle che erano le qualità del pescara, infatti le ultime gare sono finite due a due, questa tre a tre, quindi è una squadra che sicuramente, un po' come noi, predilige la qualità, lo sviluppo del gioco al fatto di essere chiusi o troppo equilibrati. Magari un tre a tre così non se l'aspettava nessuno, però per la qualità del gioco e dei giocatori in campo credo che ci possa anche stare. Sì, Marco, sta giocando, sta giocando, l'ho abbracciato, ho finita la partita e gli ho fatto i complimenti perché sta facendo una grande stagione a tutto campo. Pescara credo che abbia un organico abbastanza folto per poterlo sostituire, però lui ha fatto una grande stagione e sono contento per lui. Però non mancherà solo Pescara, mancherà Pempetti, mancherà Dursi, mancherà Denizio, mancherà Grudi, mancherà Fascatore, Pescara avrà tante assenze. Eh, ma pensa te, poi figurati, se ci fossero anche loro... Sì, a voi ve ne mancano cinque o sei, a noi bastano due o tre, Luppi e Girgi, ma per l'organico numeroso che c'è il Pescara è chiaro che in questo momento qua tra munizioni e qualche infortunio a fine stagione purtroppo qualcosa si paga. Ma per la prestazione che abbiamo fatto un po' sì, però poi alla fine si gioca su due gare. Io non sono convinto che anche se fosse finita 3 a 2, ad esempio, che ci poteva stare, sarebbe stata comunque una partita difficile a Salò. E quindi... Eh, questa è una cosa che mi... Questa è una cosa che mi è piaciuta e infatti per questo motivo sono contento della prestazione della squadra. Francesco Loria Mi serve per le scelte tecniche e tanti, quindi utilizzavano una squadra, dico stavolta, quella iniziale, però con tanti, tanti giocatori diversi, perché? Ma chi? Perché mi serviva qua un giocatore più dinamico come Spagnoli rispetto che più di riferimento come Miracoli. Di Molfetta è un ragazzo che dà qualità e quantità e quindi qui ho preferito un giocatore di più, un po' più completo rispetto alla grande qualità di Siligardi. Questi sono i due motivi, i motivi per fortuna andata bene.